Cosa è stata Olio Capitale? Avrà insegnato qualcosa a Bitonto? Sono le domande che ci si è posti qualche giorno fa, quando il Comune e aziende sono incontrate per fare il resoconto sulla principale feria italiana dedicata all'olio extravergine e che si è svolta a Trieste, già Trieste, in Friuli Venezia Giulia, dal 10 al 12 marzo. Sicuramente ha fatto capire che Bitonto deve imparare a sfruttare al meglio quelle che sono le sue peculiarità e l'olio, il nostro olio è la maggiore, ma lo si fa soltanto se il Comune, imprenditori agricoli e ristoratori si mettono insieme per studiare idee di promozione e marketing che durino nel tempo e diano risultati nel tempo. Perché Bitonto a Trieste era conosciuta da tutti come la capitale morale dell'olio e questo deve essere di spinta, oltre che di rammarico, per quello che non si è fatto finora. Allora, il punto non è tanto quello di incentivare la produzione in quanto tale. Siamo conosciuti come la capitale morale dell'olio d'oliva e siamo conosciuti dalla Sicilia fino al Friuli Venezia Giulia, cioè siamo conosciuti per tutto lo stivale, nessuno mette in discussione questo nostro primato e questa nostra eccellenza. Sul piano della quantità, sul piano anche della qualità dell'olio, direi che non c'è, secondo me, molto da migliorare. Io credo che invece la direzione nella quale bisogna andare sia quella di associare il prodotto dell'olio alla nostra città, perché oggi è la narrazione di una terra che accompagna un prodotto e lo promuove sulle tavole degli italiani, sulle tavole degli europei, sulle tavole di tutti i paesi del mondo. La bilancia, allora, comunque, è più vicina al segno più, ma c'è rammarico che soltanto un'azienda agricola bitontina era fisicamente presente nella trasferta triestina. Corato, tanto per citare un comune vicino a noi, ne aveva qualcuno in più. È stata un'esperienza molto importante, una grande vetrina e una grande occasione per far conoscere le nostre eccellenze, non solo in Italia, ma anche all'estero, perché Trieste è una fiera internazionale, si può dire, quindi un incontro di clientela e di buyer che arrivano da tutto il mondo.